Buongiorno, iniziamo insieme la mattinata come sempre tutte le mattine alle 7.30 con Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV che inizia il percorso informativo dell'emittente e quindi vedremo insieme i giornali quotidiani, quest'oggi non c'è il messaggero ma abbiamo ampie pagine di resto del Carlino e Corriere Adriatico per commentare le notizie di oggi, però prima di fare questo, come sempre, è l'almanacco del giorno e poi le previsioni del tempo, oggi è sabato 3 marzo, Beato Innocenzo da Berzo, sacerdote, il sole è sorto alle 6.40 e tramonterà alle ore 18, come vedete le giornate si stanno allungando pian piano, man mano, giorno dopo giorno, però le previsioni del tempo non sono tanto eclatanti e tanto belle, vedete la protezione civile delle Marche, ci dice che per oggi giovedì ci sarà un cielo nuvoloso, addensamenti cumuliformi durante le ore centrali della giornata, precipitazioni sparse ai caratteri di rovescio, anche di temporali intense durante le ore centrali della giornata sulla fascia costiera, quindi quelli che riguardano noi, due fenomeni temporaleschi saranno ancora più intensi, quindi vedete simbologia molto eloquente, nubi di un grigio carico e sui rilievi compare la simbologia della neve, temperature minime in aumento e massime però in diminuzione, quindi insomma temperature ancora a una cifra, previsioni per venerdì, migliora un po' il tempo all'insegna della variabilità, sereno, poco nuboloso, in arrivo le velature però nel corso del pomeriggio ma le precipitazioni non sono date in previsione, temperature anche qui in minima in diminuzione e massime in aumento, diciamo che si compensano per sabato, primo giorno del fine settimana, anche qui all'insegna della variabilità però compare, ricompare la simbologia della pioggia, quindi parzialmente nuvoloso il cielo, nuvoloso e addensamenti maggiori sul versante occidentale e sui rilievi. Nella tarda mattinata deboli piovaschi, quindi compare la pioggia nelle zone interne e anche durante tutto il resto della giornata nel corso, appunto nel resto della regione, le temperature però risalgono, quindi insomma abbiamo una variabilità abbastanza decisa durante il fine settimana e qualche goccia di pioggia. Iniziamo a vedere i giornali, partiamo dal resto del Carlino, c'è tanta cronaca e tante sfaccettature sulla sanità sia dal punto di vista della cronaca ma anche della politica. Partiamo dal resto del Carlino dicevo con la cronaca, ci sono nelle pagine di Pesaro due episodi e guardate questa foto molto eloquente che viene riportata nel resto del Carlino, praticamente questo sfortunato signore ha avuto questa bella sorpresa, ha trovato la macchina sui mattoni, portate via le sue ruote, addirittura anche la ruota di scorta, la disperazione del cameraman, la sua autopreda depredata delle ruote era sotto casa, i ladri l'hanno alzata e rubano anche quella di scorta. Pessimo inizio di giornata, era appena uscito per andare a fare gli esami medici, quando ho visto in che stato era la sua macchina tempistica e sospetti, lo aveva appena cambiate in questa settimana e ho visto un tipo a girarsi qui intorno, probabilmente le aveva adocchiate visto che erano nuove. Ancora, vi dicevo, cronaca, insomma questo è un bruttissimo episodio, molestie a sfondo sessuale in pieno centro, siamo sempre a Pesaro, vicino alla Carducci, sono le ore 18.30 e questa sfortunata ragazza, una 23enne, è stata soccorsa da una coppia, vedete nella vignetta di Giombetti ripercorsa un po' la cronistoria, vittima una ragazza e si va a caccia di un nord africano. Brutto episodio che lascerà sicuramente degli strasci che a livello psicologico in questa ragazza, le proposte che gli ha fatto il tipo sono vieni con me, voglio fare l'amore con te, le chiede aiuto a passante che la ignora. Questa è un'altra sfaccettatura poco bella, non sapevo come fare, senza di voi non so come avrei fatto, mi dispiace di avervi fatto perdere tempo, queste le sue parole. Però brutta la vicenda in tutti i due suoi aspetti, sia l'atto in sé che anche il fatto che lei abbia chiesto aiuto a un passante, questo si sia rifiutato, girare la testa dall'altra parte non è un bel segno. E poi la piaga dei furti, sempre a fondo pagina, colpiti in piazza Redi e alla tombaccia, sopralluoghi contro i topi di appartamento che ancora questa è una piaga ancora da debellare. Vi dicevo la sanità è presente in diversi aspetti e quello della delibera regionale emanata il 22 febbraio sulle disposizioni che devono essere prese in termini di progetti sanitari e in particolare per quello che riguarda l'ospedale unico, Ceriscioli guida il comitato tecnico che proverà a fare il nuovo ospedale. La delibera affida la regione l'appalto ma scrive nosocomio di rete e insomma non si capisce se questa dicitura sia un errore oppure cela qualche aspetto un po' così misterioso. Allora il 22 scorso la delibera ha approvato le disposizioni che riguardano l'ospedale unico e si rimettono in pista tutte le decisioni che non sono state rese operative finora. Ecco, questo dice che si riparte quindi dalla delibera vecchia 62 del 2012 quella che individuava in Fosso Seggiore il sito dove locare la nuova struttura. Quindi un richiamo a passato nelle carte, citate appunto gli atti che riportano a Fosso Seggiore e all'ipotesi pubblico-privata. E poi lascia aperto questa dicitura, sono due ipotesi, o siamo di fronte a un grossolano errone oppure insomma ci sono dei progetti di declassamento di Marche Nord. Questo in sintesi ciò che trovate nell'articolo del resto del Carlino. Andiamo a Fano, si parla di furti, di cronaca, nella prima pagina che riguarda l'inserto di Fano a Manchi al bar arrestata dipendente. Una giovane mamma in tasca contanti e merce per circa 40.000 euro. Poi, stufo per il trasloco, abbandona i sacchi per strada. Un altro caso che si aggiunge a quelli che vi abbiamo sempre fatto vedere anche noi a Fano TV in occhio alla notizia di scariche, di punti di raccolta trasformati in vere e proprie scariche a cielo aperto. È stato trovato anche dell'Eternit. Gli agenti stanno chiudendo il cerchio su colui che si è reso colpevole di questo brutto gesto poco ecologico, poco civile. Si parla nelle pagine di Sant'Arcangelo di Fano del recupero del Sant'Arcangelo. Inizia la sfida, ci sarà la presentazione entro il 30 del mese di un progetto congiunto insieme a Fano. Se si riesce ad attingere a questi 20.000 euro messi a disposizione per questi progetti di urbanistica territoriale, si potrà avere la fabbrica del Carnevale, un altro progetto che mira a ottenere 3 milioni di euro per far sì che ci sia un centro multifunzionale. Ci saranno tante cose da poter fare in questo edificio. Si parla della fabbrica del Carnevale, di laboratori. Insomma, è un'idea che viene portata avanti da diverso tempo e che grazie a questo fondo messo a disposizione della Regione forse si riuscirà a concretizzare. E avremo il piacere di sapere come l'architetto intende portare avanti queste cose anche grazie a praticamente una pubblica assemblea che ci sarà sabato e che mostrerà che cosa l'architetto vorrà realizzare per questo sito. Mio padre a Santa Croce dimenticato sul lettino. Vi dicevo, diversi insert sulla sanità nelle pagine dei giornali. Questa è una vicenda che riconduce alla scomparsa di Pietro Paolo Petrelli. A parlare è la figlia che ripercorre un po' il suo calvario. In questo articolo si capisce tutta la sua amarezza per come è andata la vicenda. Chiaramente dice mio padre sarebbe morto ugualmente, la sua era una patologia degenerativa. Però insomma il suo calvario forse sarebbe stato diverso. E poi appunto sul tema sanità e su quanto avviene nel nosocomio fanese Udc e Progetto Fano presentano un esposto in procura. Pressing su seri per la chirurgia H24. Quattro casi sospetti sul tavolo del procuratore, tra i quali appunto quello che c'è in testa di pagina per allertare chi di dovere su quanto avviene a Fano e nell'ospedale e se c'è un progetto politico. Cosa che mette nel titolo il Corriere Adriatico e come vedete questo è il parere dei firmatari di questo esposto alla procura. Un disegno politico contro il Santa Croce, Udc e Progetto Fano illustrano l'esposto che hanno inviato alla procura. Ora il sindaco abbia il coraggio delle scelte e poi anche qui in testa la vicenda di Cronaca la barista che ruba i grattini è stata filmata e arrestata. Ritorniamo in basso sempre per farvi vedere che anche il Corriere Adriatico riporta la brutta vicenda dei rifiuti abbandonati e veramente questo è un gesto oltre che incivile anche che ha dei risvolti ecologici negativi perché poi insomma il percolato, questi rifiuti abbandonati malodoranti insomma c'è di tutto, non è una cosa bella anche perché c'è un servizio a disposizione dei cittadini da parte dell'ASET che recupera oggetti anche ingombranti che non possono andare nei cassonetti. Fano, referendum che ci sarà il 17 di aprile, mette in campo gli scrutatori a ruolo, tutti coloro che ne hanno le caratteristiche e i requisiti, i disoccupati potranno presentare la domanda all'ufficio elettorale del Comune di Fano entro le ore 13 di venerdì 18 marzo, quindi il 18 di questo mese. I posti sono 102, la metà di quelli disponibili appunto per i disoccupati, le domande entro il 18 marzo. Si progetta la fabbrica del Carnevale, presentato il piano per il Sant'Arcangelo dove verrà allocata anche la casa del GES, una struttura spazio anche alla robotica, alla meccanica d'avanguardia. Sabato vi dicevo la presentazione da parte dell'architetto Rota di questa sua idea. Siamo ancora a livello progettuale, non c'è proprio un progetto scritto, è un insieme di idee che verranno presentate proprio per questa sede futura destinazione del Sant'Arcangelo. E poi Ponte Mimmo a rischio di esondazione, vedete nella foto ci sono tronchi, rami di traverso che ostruiscono il defluire dell'acqua e quindi insomma il torrente Arzilla ostruito dai rami, se dovesse ingrossarsi sarebbe un problema perché insomma il rischio di esondazione c'è. Andiamo nella pagina che parla di Senigallia, terrorismo fascicolo su Karim, si indaga sulle dichiarazioni per valutare il rischio di avvicinamento ai militanti dell'ISIS. Si parla di questo nelle pagine di Senigallia del Corriere Adriatico e poi il restyling sulla piazza chiude via Cavallotti. L'architetto Sartini dice i lavori eseguiti a Stralci, questo permetterà di avere metà del sagrato accessibile e quindi insomma la piazza ritornerà ad avere una parte di calpestabilità, insomma di fruibilità da parte degli utenti. Carnevale di mezza quaresima, siamo alle pagine che riguardano l'interno, siamo a Cartoceto, sei grandi carri che sfileranno e daranno 20.000 uova di Pasqua a quanti andranno a vederlo con tanto di sorpresa all'interno e quindi insomma chi vuole vivere questo momento della mezza quaresima lo potrà fare in quel di Cartoceto. Bene, ultima pagina che vi proponevo, grazie per essere stati in nostra compagnia in questa prima rassegna stampa della giornata, poi ne seguiranno altre in replica, quindi un saluto anche agli amici che ci guardano in replica e domani Occhio ai giornali torna puntualmente alle 7.30 e questa sera non mancate l'appuntamento con Occhio alla Notizia nel corso della giornata, se volete restare aggiornati in tempo reale avete a disposizione la nostra pagina Facebook o il sito internet occhianotizia.it. Grazie e buona giornata a tutti voi. Grazie a tutti.